Mostre di prestigio e appuntamenti che vanno oltre il territorio nazionale e attendono il Teatro Margherita di Bari. E' proprio il sindaco del capoluogo pugliese Antonio De Caro ad annunciarlo attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Dopo la mostra di National Geographic Planet or Plastic ancora in corso, a fine marzo, Covid permettendo, è previsto il Festival del Cinema Bifest per poi fare posto a due appuntamenti dedicati a due dei nomi più noti della street art internazionale, Pansy e Obey. E poi ancora una mostra di divulgazione scientifica per la quale l'amministrazione comunale sta definendo gli ultimi dettagli. Per finire il 2022 in bellezza ci sarà la nuova edizione di WordPress Photo che continua a registrare nuovi record di pubblico come le 16.000 presenze nell'anno appena conclusosi. Questa è solo una parte delle tante iniziative che stiamo preparando per la città, ha dichiarato il primo cittadino con la speranza di poterci mettere questo brutto periodo finalmente alle spalle.